Sì, sì, mangio qualcosa e arrivi. Buonasera. Buonasera. Possiamo ordinare? Sì, certo. Solo un aperitivo che avevo di fretta. Va bene, arriva subito. Ok, grazie. Sì? Pronto? Ah, sì, ciao. Dimmi tutto. Sì, sì, bravissima. Mi piacciono moltissimo la stradettura di questo. No, no, ma di questo dobbiamo cambiare. Non va bene la scorsa. Ne facciamo un'altra foto. Va bene, va bene. Bravissima. No, no, non se ne parla proprio. Non va bene. No, no, ho capito. Sì, sì, ma le manerucce è colpa. No. Allora, facciamo la vita e basta, va bene? Ok, va benissimo. E basta. Fai come ho detto io. Ci sentiamo dopo. Aspetta. Non vuoi capire, bro? Sono nel palco e c'è un nero che sta mangiando i miei aperitivi. Aspetta, ho capito. Però ora sei giornalista. Ti preoccupare, ci penso io. Non vuoi capire, ci penso io. Non vuoi capire, ci penso io. Ehi, sì, sì, sono io, qui tutto a posto, ho mantenuto la calma, ma la sola cosa che mi ha investito di più è che non c'è il tuo punto, no? Ecco lei. Grazie.